L'appello di Davide Nicola per adesso è rimasto inascoltato, o se si preferisce, ascoltato solo in parte. Questo Bari vivacchia nel centro della classifica in una sorta di vorrei ma non posso, perché i biancorossi vorrebbero anche provarci a raggiungere i play-off, ma l'operazione appare di difficile realizzazione con questo passo lento. Serviva a vincere contro il Crotone per salire sul treno degli spareggi promozione ed invece il Bari è arrivato tardi a questo appuntamento, rischiando la beffa contro una squadra che cercava punti salvezza. Il pareggio, agguantato nel finale da Minala, serve solo ad avvicinare la quota dei 50 punti, non certo l'ottavo posto. La gara non è di facile lettura per i biancorossi, anzi è il Crotone a creare la prima occasione con la conclusione dalla distanza che termina alta sulla traversa da parte di Ciano. Non è preciso neanche il colpo di testa di Defendi su cross di Sabelli, mentre quello di Rinaudo dopo il quarto d'ora è troppo centrale per impensierire Cordaz. Il portiere del Crotone non trattiene la conclusione di Defendi con De Luca che sbaglia il possibile tap-in. Ci prova dalla distanza a Bellomo, ma la conclusione è fuori misura, mentre la prima vera parata dell'incontro Cordaz la sfodera al 31esimo sul tentativo di De Luca deviato in angolo. Il Bari, anche senza forzare i ritmi, aveva fatto la partita, ma il Crotone a trovare il vantaggio con una punizione deliziosa di Ciano sulla quale non ci arriva Guarna. La risposta dei biancorossi è immediata con la girata di De Luca bloccata da Cordaz. Si esalta, ad inizio ripresa, il portiere dei Calabresi su una calambola provocata dall'intervento di Contini, deviando il pallone in calcio d'angolo. Una buona chance capita anche sulla testa di Donati, che però non inquadra lo specchio della porta, ed è ancora lui, sempre di testa, a sfiorare il possibile pareggio. Il Crotone potrebbe raddoppiare ancora con Ciano, che questa volta viene ipnotizzato da Guarna, bravo a tenere in partita i suoi. Nicola si gioca il tutto per tutto con l'inserimento di Minala e la scelta lo premierà non prima di aver visto il tiro cross di Sabelli deviato in angolo da Cordaz, che non la può sul tocco ravvicinato del già citato Minala, smarcato dal colpo di testa di De Luca. Il pareggio alla fine è il risultato più giusto, che però non serve ai sogni play-off del Bari.